Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale, potrete commentare tutte le notizie qui sotto proprio nella sezione commenti. Madre e figlia torneranno insieme, a riposare per sempre l'una a fianco all'altra nel cimitero di Saonara Padova. Questo è quanto deciso dalla famiglia, posare la tomba di Giulia accanto a quella della mamma Monica Camerotto, scomparsa a 51 anni, a ottobre dello scorso anno, in seguito a una lunga malattia. Difficile immaginare quando famiglie e amici potranno dare l'ultimo saluto a Giulia, la data dei funerali infatti non potrà essere fissata prima che venga portata a termine l'autopsia, i cui tempi di svolgimento sono strettamente legati a quelli dell'estradizione di Filippo Turetta. Ogni esame che predispone la magistratura gli deve infatti essere notificato. Se i tempi però saranno lunghi, gli accertamenti sul corpo di Giulia potrebbero venire eseguiti con Turetta ancora in Germania, non prima però di una settimana. In questi giorni Don Francesco non ha mai smesso di tenersi in contatto con i familiari di Giulia, prematuro chiedere ora il loro perdono. Dicono che il perdono divino non sia nelle nostre capacità umane e in questo momento non possiamo pensare possa essere qualcosa di scontato. Il Padre Gino è una persona eccezionale, basta guardarlo in faccia e sentirlo nelle parole, non prova odio né rancore. Se un giorno arriverà il perdono, arriverà come un dono. Migliaia i cittadini che si presume vorranno raggiungere Saonara, per questo il Comune installerà due maxischermi nei piazzali esterni alla Chiesa. Saranno chiuse al traffico le vie adiacenti. A vigilare su viabilità e ordine pubblico saranno le forze dell'ordine e i volontari della protezione civile. Il presidente della regione, Luca Zaia, ha indetto il lutto regionale per il giorno dei funerali di Giulia. Oltre alle bandiere a mezzasta lo stesso governatore ha proposto che tanto luoghi pubblici quanto privati espongano oggetti di colore rosso. E che ogni cittadino indossi un fiocco dello stesso colore per lanciare un segnale contro la violenza sulle donne.